Si apre giovedì a Bruxelles il vertice tra Unione Europea e Russia, un vertice all'ombra delle difficoltà economiche della zona euro e dei recenti scandali delle elezioni parlamentari russe. Le autorità europee vogliono affrontare la questione delle presunte irregolarità, ma l'ambasciatore russo all'Unione Europea vede le cose diversamente. Non è il momento di fare polemiche sulle elezioni che già appartengono al passato. A questo summit, spiega Vladimir Tchichov, parleremo invece del partenariato strategico tra la Russia e l'Unione Europea. Questo significa discutere del nuovo accordo quadro tra Russia e Unione Europea e fare progressi sulla liberalizzazione dei visti. Secondo gli analisti tuttavia sarà inevitabile parlare delle presunte frodi nelle elezioni della Duma denunciate dalle manifestazioni di massa, un segno dell'avanzare della democrazia in Russia, secondo questo politologo tedesco. Osserviamo in modo positivo quante persone sono interessate nelle elezioni libere e giuste. È esattamente quello che abbiamo sempre voluto vedere e dobbiamo incoraggiare questi sviluppi. È nell'interesse della federazione russa e dell'Europa. Un ottimismo non condiviso dall'ex campione mondiale di scacchi figura il leader dell'opposizione, Garry Gasparov. Qualsiasi decisione presa a questo vertice non avrà importanza storica. Oggi l'Europa è in una situazione finanziaria tale che è pronta a fare qualsiasi concessione. Indubbiamente Putin approfitterà della situazione. Al vertice la Russia potrebbe confermare di voler contribuire al Fondo Europeo Salva Stati attraverso il Fondo Monetario Internazionale.